Uno. Sto aspettando dietro l'ufficio. Due. Io vivo con i miei genitori. Tre. Lui è in casa. Quattro. Lui è davanti alla casa. Cinque. Il bagno è dietro di te. Sei. Il commissariato è vicino alla casa. Sette. I bicchieri sono nella scatola. Otto. I catti vivono intorno al parco. Nove. Le mie sorelle vivono in Italia. Dieci. Io lavoro qui da due anni. Undici. Fuori fa freddo. Dodici. Le chiavi sono fuori. Tredici. I libri sono sul tavolo. Quattordici. Io sono tra due edifici della scuola. Quindici. Il regalo è per lei. Sedici. Questo fiore è per te. Diciosette. Io sono in classe. Diciotto. Verso la strada c'è un semaforo. Io. Grazie.